Sai qual è il tuo problema? La tua faccia. Sei troppo bello. La cosa migliore che potrebbe accaderti è un infortunio sul lavoro. A proposito di uomini. Ciao. 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 A proposito di donne. Sconvolgente mossa finale in arrivo a un momento. Dopo colpo all'impietro dei capelli e riserva. Sì! Brava! A proposito di sesso. Ero piuttosto ubriaca. È successo qualcosa che tu sappia? No, assolutamente niente. Vuoi rifarlo? A proposito di strategia. L'hai chiamata due volte. Dan, mai telefonare a una femmina più di una volta alla settimana. Mai, mai, mai. A proposito di rischio. Io penso che dovresti avere un cassetto tuo. Un cassetto? Tutto per me. A proposito di amicizia. Vado a vivere con Danny. Vi do due mesi. Non vai qui, non vai là. Sei divertente come un bastone. A proposito di parole. Ti amo, Danny. Chi l'ha detto per prima? Io. Oh, Dan, 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 Dan. A proposito di sincerità. Ci andavi a letto? Ma che dici, Dan? Giocavamo a bowling. A proposito di impegni. Ti amo, Danny. No, passerà. No, non passerà. A proposito di amore. E tu sei uno psicopatico, schizofrenico. Sei uno socialmente disadattato. Allora vuoi ballare o no? A proposito della notte scorsa. Con Rob Lau, Demi Moore, James Belushi, Elizabeth Perkins. A proposito della notte scorsa. A proposito della notte scorsa. Grazie a tutti.